Prima del secondo schiocco tu devi essere fuori dal cerchio, quando vuoi. Ok, va bene. Questo ok, va bene, ma se tieni questa come posizione di base, mi giro così la vedrai meglio quando stai a casa, è meglio. Proprio così, fammi vedere, vieni qui qua, così. Sapete ragazzi questa postura qui? Ogni tanto qualche mio studente che ha fatto qualche corso me la ritira fuori, dice ah guarda che mi hanno insegnato. Questa posizione qui è nata qui all'Otzuga 28 anni fa, è rinata qui all'Otzuga 28 anni fa. Ve la voglio dire questa cosa perché vi potrebbe ricapitare ogni tanto nello studio della difesa personale qualcuno che dice ah questa me l'ha insegnata il mio maestro. Bravo, ma il tuo maestro ti ha insegnato a Danilo Capuzzi. Perché 28-29 anni fa, qui, con l'amico Leo Dario Battaglia Danilo Lazzarini, i fondatori di Arts di Micandi, quel gruppo di persone che parlano tra loro latino, se vuoi essere di Arts di Micandi, studiano la gladiatura, fanno archeologia sperimentale. Anche qui a Roma noi con loro facevamo questa cosa qui, cioè ci vestevamo con le cose dei gladiatori e ci menavamo per vedere come evidentemente si addestravano. Perché chi moriva sempre evidentemente non stava usando la tecnica giusta. Quindi c'era il secutor contro il reziario, eccetera, eccetera. E archeologia sperimentale come si fa? Guardando un po' le sculture, leggendo un po' gli scritti antichi, anche i racconti stessi. Magari c'era uno scrittore che raccontava di due gladiatori come combattevano, ce ne sono tanti anzi, no, qualcuno. E poi guardando anche quello che c'è sui vasi, eccetera. E in uno scritto abbiamo trovato una posizione che si chiamava fulmine e tempesta, l'abbiamo tradotta dal latino. Fulmine e tempesta. E si parlava proprio di un braccio messo così, come così. Quindi chiunque ti dice, ah questa l'ha inventata il mio maestro dalle tali, no, perché noi in un vaso di duemila anni fa l'abbiamo ritirata fuori e rivista. Quindi duemila anni fa non eravamo noi. L'hanno inventata sicuramente o in Grecia o a Roma. Fulmine e tempesta questa posizione si chiamava. L'abbiamo un po' ricostruita e mi sembra che ancora è molto attuale, che funziona molto bene. Se tu provi a colpire una persona che sta in questa postura, ti fai male alle mani. L'abbiamo già fatto diverse volte. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti, clicca il link che trovi nei commenti.